e ci sta un attimo così a caso questa dell'inizio della quarta puntata sa strega di merda mi ha avvelenato stavamo ca me tra stroia stronza fai il culo ah ok non volevamo iniziare così la puntata ma una strega ci ha costretti a fargli il culo e siamo avvelenati e stavamo facendo il tetto ma è rimandato e si dopo che la strega ci ha fatto neri no 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 perché se stavamo da un'altra parte bene però voglio ammazzarmi se no sto con un cuore e poi una palla tanto lo spuno con un cuore e una palla con un cuore e una palla sta a mezzo cuore ok ci sono siamo vivi maria non va che ti è precipitato ma va chi sa per chi sembra io allora sì la puntata non doveva iniziare a un attimo salve a tutti e finalmente abbiamo ripreso da aver rotto il culo alla strega siamo qui con la quarta puntata di mario alla set abbiamo fatto la prima se mostra quando la seconda test ok si la carta la quarta dico bene un po di memoria c'è ancora un po è in realtà stavamo pensando a cosa fare se realizzare sottodetto e mentre pensavo a sottodetto la strega ha rotto i coglioni no in realtà era successa salvoliamo parlato di aria e mentre l'aria usciva dall'aria eravamo distratti e forse c'è la strega che è intervenuta era la vabbè comunque ci dedicheremo con la quarta puntata alle farm alle cose qualche recinto magari per gli animali con gli animali prendiamo magari prendiamo quel maledetto ciuggo che ci perseguita e lo mettiamo in cella e alla fine l'ultima puntata c'è un m***o allora ok si ultima puntata l'ultima puntata ci ha mangiato ciuggo wow grande vabbè così la chiameremo ci ha mangiato ciuggo verrà tutto in napoletano proprio cioè che noi facciamo minecraft e lezioni di napoletano certo wow grande, wow il grano sono tre puntate cazzo tre puntate ne è uscita una spiga è vero che sono passati cinque minuti però però in tre semmine da cino cambia grande la perla ah madonna il secchio i secchi i secchi la sto giocando io perchè da quando che cazzo fammi giocare per me eh no vabbè perchè è successo tutto quasi in fretta eh si ma qualche giuda lascio tu ahahahah ahahah prendiamo facciamo la fonte di acqua infinita così possiamo fare la piantagione allora fai un po' di carità pure a me si si non è giusto faccia io chissà perchè già si fa sempre vai prima a dormire se non esce un'altra strega di me è un'altra strega di me ahahahah ahahahah andiamo finalmente la casa è finita ma con tutta la merda a sopra e con tutta la casa con tutta la porta i ragazzi stai cresciuti ma perchè forse l'avevo lasciata aperta ma dico io no ti fatti stavolta mannaggia a te mannaggia a te mannaggia a te mannaggia a te ma cazzo buonanotte buonanotte tutta questa cosa molto evidente no spero dobbiamo farlo dobbiamo trovare un posto dobbiamo trovare un posto dobbiamo trovare un posto dobbiamo trovare un posto in guinza a pare certo allora sembra la e non me la dimentico mai sembra finire la e è un mese che un mese quattro puntate sembra pensa questa allora io penso che la madre vicino vabbè ma mica a fianco non a fianco sto saltando tipo qua questo sarebbe il retro vogliamo farlo diventare il retro e sul retro queste scale non ci abbandonano mai è un ufficiale di scala ok allora dicevo a mari prima qui penso è vero dobbiamo aspetta quanti blocchi sono uno, due, tre cominciamo a sparare blocchi a piacere poi se viene se viene male i cazzi sui allora in pratica tu vuoi fare una farm soprelevata yes in modo che non ci rompono i coglioni coglioni veniamo fatto si vada bene si si non ci saliamo più su no 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 perché se no se no trovi troppo su eh allora quando scavano ancora ho un mese devo andare all'ospedale e se frena tu di quanto entriamo un bel po' devi fare abbastanza devi penetrarla devi penetrarla per me che cazzo sta succedendo avevamo smesso di fare la smeralda allora dicevamo devi farlo abbastanza per tu gioco è meglio devi fare abbastanza grande devi fare andiamo genia allora ma aspetta girate un attimo girate vi giro di qua prendo questi allora faccio anche l'audio faccio io l'audio e dopo l'avevi spaccati dopo gli spaccati il culo come la strega come la strega lei vuole essere capace che la strega diciamo quel culo prendiamo un ascio un piccolo un martello una madonna wow hai detto legno secondo me mi ricorda una foresta ma tanto perchè c'ho la legna e abbiamo piccato delle scaline un povero uno abbiamo piccato delle scaline è meno male ma sta per noi picciamo delle scaline sono scalini che possono sempre servire allora guarda dicevo tu fai così no? così 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 e così ma per farlo efficiente devi fare dobbiamo scendere di un blocco? no bocciato devi fare uno strato di terra e uno strato di acqua andiamoci siamo qui per realizzare i vostri sogni ma voi realizzate i nostri guardate i video per favore allora guarda questa striscia qua di canna striscia striscia si possono essere svariate cose ok youtube ci bloccherà a vita di monetizzare il canale ci bloccherà a vita youtube ti prego fai bravo papà youtube lo mio amore papi satana papi satana sapermi di questo moneycraft allora voi non lo sapete ma abbiamo realizzato un video con sasa dove è sempre a reazione al mitico young e qui c'è uscita una cosa qualcosa di allucinante spettaculare cosa è allucinante ma la parola non andare su e ne faccio la in l'acqua infinita così non devo andare niente dietro ah è così pulbo ok un po' di acqua qui un po' di acqua qui e poi che ci spariamo qua le canne per i bomboloni no canne di zucchero canne per pescare no canne di letame aspetta forse forse canne le canne vabbè in genere si qualche canna ci dobbiamo mettere guarda e tu fai colore e non piazza un cazzo e non metti di no ah si sai perché perché non c'è la luce guarda e vedi vedi ti ho detto facciamo la scena aperto invece tu no e no è perché è più bello vabbè cattivo allora quindi io dico 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 che cosa dico che dobbiamo mettere una torcia e quindi la ah anche luce artificiale c'è non soprattutto luce artificiale però per chi costruisce qua 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 c'è quella luce quindi ne mettiamo anche torcia ma è così magicamente che compaiono i boccioli eh un nero ha fatto la seconda puntata ha fatto la onda nera l'ha fatto ah e quindi almeno non si blocca almeno almeno dovete capire che si è bloccato eh che ciò fa ah che allora vabbè penso che fai un altro poco poco più un altro po' di profondità eh dove scaviamo in in di qua large eh large non fare così non fare un piccone speciale ma non si può 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 uno così lo caccerei uno così lo caccerei si può si può essere più stronzi si può essere più stronzi si può essere più stronzi c'è una farm gigantesca poi gli animali che non li mettiamo a pian terreno così ci siamo a mangiare se ne stanno a portare no qua facciamo un'altra vabbè un'altra caverna mettiamo un'altra caverna e ci piacciamo di due animali yes tutte le pecore biciuchi su si troia su si pecora su si pecora su si la pecora su si la pecora ha in profondità così no 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 allora devi scavare la striglia è chiesto è chiesto e esce dell'acqua è preoccupato non facendo qua si ci dobbiamo allagare non te ne fregare un cazzo lui cipin ok mo dove sta spacca non andare in acqua per gentile ma sono già andato ok e mo ma i piazzi i blocchi dove hai rutto i blocchi di terra eh voglio sto imparando anch'io vedi qui ci mettiamo sempre gli stessi per forza solo quello abbiamo cioè quale abbiamo cazzo questi quelli di grano ah questi di grano vabbè di grano di grano di grano prendi zappa zappa vai a zappare ma che destino crudile sembra a zappare altro che youtube è un zappatore un zappatore adesso i segni sono sai così così non perdi tempo unisci ok e mo così ecco qua ecco sì ok mo devi fare un'altra striscia striscia di vuoto per strisciare se mi spacca spacchiamo disegni con i segni e fu così che non ci pianto un cazzo e fu così non spaccò più un cazzo aspetta giocati un attimo eccomi qua ok vai no niente così così ma ti insegni una cosa per fare acqua infinita guarda allora se mette una funtana no però paghi con qua no allora sembra una cosa sembra un po' modula basta che due metti due volte qua per la toglita quella e noi soldi è un'altra ancora attrezzare una cosa a mano che sfiga diciamo che diciamo che per il momento questo può bastare come il momento ma soltanto per il momento dico c'è come farmi iniziale ci può stare benino eh si sta bene ma l'unica cosa voglio mettergli la terra perché ne abbiamo ne abbiamo così ne abbiamo di terra non da vendere aspettate ma vi facciamo vedere ne abbiamo così tanta che possiamo costruire una casa tiziano farro si perché poi la sana le dice di belle si certo ho sparato pure anche tiziano farro immaginate tiziano ferro è diventato tiziano farro ma perché la sera canse di tiziano farro tiziano non preoccuparti sei sicuro ah da ferro a farro perché tiziano io penso che dovrebbero fargli una medaglia si al valore le competenze e così si tolse tre grano certo tolse il grano perché vedete la sudata la luce si perché quando non paghi questo è quello che succede quando non paghi la luce ecco qua mette una la luce la chiamiamo all'enel all'enel è quando e quando appena rimane così solo appena ti ricordo questi bastadi devi pagare una volta al mese eh certo al mese questi cazzi sennò col cazzo che c'è la corrente te l'avete voglio più cercano aglio più c'è carne io penso che posso fare una somma solo sulla tosse allora ma guarda devi fare così devi scavare un po' più in profondità però non troppo e devi fare altra cosa un altro un altro pezzo va bene signor bene signor un altro così tutto quanto tutto quanto grande perché ci mettiamo gli animali aspera metti il grano la il grano qui devo prenderlo che sta qua altro ok altro e poi spacchiamo ancora spacchiamo il culo blocchi in profondità lo stalker lo stalker asino lo stalker ronzino ancora 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 gli animali poi ci verranno qua se propria a noi come ci rilasciniamo con una canna e noi in realtà penso dobbiamo dire dobbiamo far venire prima le mucche o i polli no prima le mucche no anche i polli però prima le mucche prima le vacche ci vuole una bella vacca come dico io se il remano vacca come dico io io penso che la casa facciamo un canco ok adesso adesso abbiamo un'altra luce no un'altra torce giù si all'uso spacchiamo il carbone così facciamo le torce perché noi tanto qua magari dopo ci mettiamo la terra perché ne abbiamo acqua a migliare perché dovete capire che le torce che stiamo usando sono quelle della bacca la puntata sempre torce a quantità non c'è problema prendi tutta la pena di carbone ce n'è tanta vero è? ma qua chi l'ha mista qua? nessuno è sempre trovata così free gratuitamente che cazzo ha misto allora ancora qua c'è pure questo guarda ce n'è tanta veramente guarda pure qua allora torna in base vai a dormire posso si andiamo vai zappatore vai a dormire mamma mia che sfiga dopo una giornata di lavoro a zappare per fortuna andiamo a riposare percorre così ma non corre perché sta ancora fame fame quindi ha fame e batta qua e poi mangia poi ti torna povero Steve facciamo una vedi la porta se no entra un'altra cazzo di strega vabbè se ci ammazzai in casa non succede niente ma meglio di no c'è sempre l'audio io eccoci qua buondi per mangiare per mangiare per mangiare qualcosa che sta nel baule cioè che c'è per il baule un cazzo un cazzo nel baule no no non mangiamo il cazzo no niente l'uovo no ehi ma che fai la pittata perché non devi lasciarti un tubero un tubero è un cazzo di pane è il cazzo di pane il cazzo di pane lascialo qui e mangia ah devo mangiare quindi poi così e poi mangiamo ecco qua giam 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 ok adesso sì dovevamo fare il fatto delle guacche allora bene la teimar no vabbè neanche teimarle perché loro non c'è non puoi cavalcarle eh no non guardiamo sembra negli stessi errori ok penso che un giornatore un giornatore muo farci un arco ah sì te lo raccomando ma perché parlando di archi avete visto sempre nel famoso 1.14 hanno messo le balestre eh pure penso perché dice che l'aggetto è più lungo non è più lungo è più lento da caricare sì ma copre un raggio d'azione maggiore con chi c'è bersagli più lontano rispetto alla vecchia la vecchia ecco la farm io direi che si sa la farm scoperti però tipo se non mi sbaglio penso almeno per quello che ho visto lanciano tipo pure tre frecce quindi diventa che ci stanno ci mette più tempo a caricare però roger regge regge roger copre un raggio d'azione maggiore copre un roger con la balestra di coprire roger lo copre copre un raggio ma e il getto più lungo è quella di merda se no pure venire lo ammazzi perché non si è un cazzo no lei è nera non si ammazza ma perché le nere no? perché è metà fa vita no perché perché dolly è sacra ma ce n'è più di una dolly che si moltiplica e tu qua le vedi stanno andando ora stanno venendo è vero ma se non saltano se saltano le ammazzo no non saltano vieni 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 giorno mettiamo un recinto venite qua ah non posso farlo bianca e nera si accoppiano si diventa esce grigio anche che poi loro ci daranno da mangiare perché darà carne anche la lana ah non serve un cazzo serve fare le pixel art e il letto olietta che si può fu di mano? no i cazzettini che si può fare? no ma sti va ma sti va è nato vestito guarda ah già nasce così già vestito ma vabbè che stranezza di natura dunque una cosa guardando la sti no stavo pensando dobbiamo chiedere a qualcuno come c'è almeno scriveteci sotto nei commenti come possiamo mettere la skin perché noi abbiamo minecraft premium ma craccato vabbè comunque voglio rimettere la mia skin personale perché ce l'abbiamo fatta non riusciamo a però non riesco a metterla perché questo non simbolo io sono peggio io sono peggio perché non hai capelli io non hai capelli invece la e quindi non posso essere ok ok allora eh sì perché se ci aiutano magari nei commenti si suggeriscono anche perché ci vogliono bene speriamo allora come si fanno le stagione come si fanno come si fanno ok ah si fanno si fanno ma non si fanno si fanno si fanno ma queste servono a chiudere la farm la farm vabbè ecore 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 mojang mojang devi fare susi porca susi porcora magari posso anche fornire dettagli su come la vorrei anche perché penso che qualche schizzo la posso gettare eh magari non si può mai sapere dai un'idea nuova è una cosa di buono poi esce un letto matrimoniale ci può stare cancelletto che si fa così ed ecco qui che possiamo chiudere le porche se si becora se si becora se si becora se si becora mozzare luna cosa vuoi? eh lo sai eh gli effetti dei funghi ecco qua allora 1 2 e non uscire becora ah però penso sia meglio se lo mettiamo più centrale cancelletto sì lo so un attimo non uscire via troia boom whatsapp infatti mi stava a dire guarda se mi sa piacere punita marina eh ho cancelletto ok ah vedi come mi sento realizzato sì sì ah che fa no no non biangite non biangite a parte che sono io quello che mi fa copiare quindi staccati staccati oh uno pecore allora in realtà adesso penso che facciamo un taglio perché ci serve un altro pezzo di che culo già c'è un altro pezzo di pecore un altro pezzo di pecore vai fate ah si stanno stanno tubando stanno amoreggiando ah il pecorino ah 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 esci dalla pecorella vicina è grigia ciao pecore ah allora a posto cioè io penso che è più zitta zittiscilo penso che vogliamo concludere questo episodio dopo che le nostre pecore hanno dato alla luce una pecorina grigia pecorina ahah spero che questo video vi sia piaciuto, e c'è una pecora di casa, oh no c'è il che budetta, siamo nelle budele, le viscere, ok, spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate commentate, condividete, ci vediamo settimana prossima, così con la pecora che sta tra le palle